Allora, del corso mi è piaciuto il poter confrontare un sacco di... neanche confrontare, il sentire così tante energie in un'unica stanza che è proprio palpabile ed è una cosa che non si può insomma spiegare a voce però è veramente... si tocca con mano questa forza. Lo consiglierei perché è un sistema per venire a conoscenza di se stessi nel profondo. Il famoso cosa sono venuto qua a fare, ecco forse apre delle porte, più che forse apre delle porte. Un paio ne ho sbloccati, sono i problemi poi esistenziali della nostra vita dove principalmente mettiamo sempre una piccola barriera per cui poi dopo ci ritroviamo ad avere a che fare con delle paure inventate. Ciao Patrizia, è un piacere conoscerti, una fortuna essere qua e spero che tutti possano esserci la prossima volta. Grazie. 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 Grazie.